il reggiane re 2005 noto anche come sagittario era un aereo da caccia monomotore monoplano e monoposto prodotto dall'italiana officine meccaniche reggiane controllata dalla caproni nella prima metà degli anni 40 il progetto del nuovo caccia della reggiane nacque nel corso del 1940 su iniziativa diretta del conte giovanni battista caproni titolare dell'azienda che deteneva la maggioranza azionaria delle officine meccaniche reggiane sviluppo dei precedenti re 2000 ed re 2001 ne rappresentò l'ultima evoluzione prodotta in serie dotata del motore tedesco di bil 605 negli esemplari realizzati così come nella prevista produzione in serie le unità motrici appartenevano alla versione costruita su licenza dalla fiat denominata fiat ra 1050 rc 58 tifone si trattava di un motore a 12 cilindri raffreddati a liquido che erogava una potenza di 1475 cavalli il nuovo progetto della reggiane comunque pur ricalcando nelle forme esterne i suoi immediati predecessori costituiva una macchina considerevolmente diversa lo staff tecnico dell'azienda guidato dagli ingegneri roberto lunghi e giuseppe marraschini completò l'opera entro la fine del 1941 alcune caratteristiche tecniche rendevano il sagittario all'avanguardia come la fusoliera costituita da un guscio di duro alluminio con rivestimento di tipo lavorante e l'ala del tipo a cassone anch'essa col rivestimento lavorante con tutti i serbatoi per il carburante ricavati al suo interno i radiatori del liquido di raffreddamento e dell'olio lubrificante erano disposti al di sotto dell'ala nella zona centrale del velivolo formando un blocco unico verso i quali una presa d'aria dinamica dal profilo rettangolare convogliava il flusso dell'aria destinato al raffreddamento il reggiane 2005 è equipaggiato con due mitragliatrici breda safat calibro 12,7 e con tre cannoni mauser mg 151 dal calibro di 20 mm le mitragliatrici erano disposte nella parte superiore del muso del velivolo un cannone sparava attraverso il mozzo dell'elica e gli altri due erano nelle semiali tutta la produzione venne realizzata presso il reparto sperimentale della reggiane e le consegne ebbero inizio il 6 marzo 1943 quando si alzò in volo il primo dei 30 velivoli della serie 0 costruito in poco più di 30 esemplari durante la seconda guerra mondiale venne impiegato dalla reggia aeronautica nell'estate del 1943 la 362 squadriglia del 22esimo gruppo fu l'unico reparto della reggia aeronautica equipaggiato con il re 2005 in seguito alla divulgazione dell'armistizio la produzione del re 2005 fu quasi completamente sospesa in epoca successiva all'armistizio non risultano esemplare di re 2005 tra le file della reggia aeronautica mentre 13 esemplari furono certamente impiegati dalla luftwaffe e altri dall'aeronautica nazionale repubblicana alla fine di tutto quello che resta dei re già nel 2005 è un troncone posteriore di coda con le insegne della 362esima squadriglia della reggia aeronautica attualmente esposto presso il museo dell'aeronautica gianni caproni di trento ho sognato ancora stanotte amore e felicità d'un zio lontano americano ma se questo sogno